definita l'assegnazione dei seggi e fissati gli equilibri elettorali si parte ora con il toto giunta non basta applicare il manuale cencelli è necessario fare molta attenzione anche al profilo dei primi non eletti per capire a chi assegnare le rispettive caselle i posti di maggior rilievo sono sei vice sindaco quattro assessori e presidente di agropoli cilento servizi probabile che il pd scelga di conservare parte della squadra anche alla luce del consenso elettorale sono molto probabili le conferme di rosa lampasona e vanna da rienzo in giunta che farebbero subentrare in consiglio giuseppe cammarota e franco crispino come pure la conferma all'azienda speciale agropoli cilento servizi di mimmo gorga da capire se pierino marciano primo degli eletti possa ambire alla casella di presidente del consiglio comunale anche se in questo caso si rischierebbe una sovraesposizione del pd rispetto agli equilibri di coalizione ipotizzate quindi le caselle del pd resta da capire infatti in che modo verranno accontentate le altre cinque liste che hanno preso consiglieri nodo cruciale proprio quello della presidenza del consiglio comunale casella ambita ma che non farebbe scorrere la lista con i primi dei non eletti e qui diventa interessante capire quali consiglieri non si vorrebbero in consiglio comunale il maggiore indiziato potrebbe essere raffaele carpinelli stratega politico di lungo corso sebbene la sua competenza potrebbe anche essere recuperata con una promozione all'assessorato al porto e demanio di cui è un esperto nino ciancio l'hai dato sin dalla vigilia quale possibile vice sindaco ma questo non farebbe scattare il posto per francesco barone in consiglio comunale che quindi potrebbe accontentarsi del ruolo di consigliere all'agropoli servizi la lista mutali passi per una manciata di voti seconda lista della coalizione dovrebbe avere un assessorato con l'ingresso in consiglio per roberto apicella a meno che non sia proprio lui ad essere promosso con l'ambita delega al turismo lasciando invariata la compagine consigliare franco di biasi potrebbe vedere premiata l'affermazione del psi con la presidenza del consiglio comunale sebbene questo comporterebbe il mancato ingresso in consiglio del primo dei non eletti marco gatto probabile quindi che restare fuori dalla giunta sia la lista uniti con mutali passi in questo caso a farne le spese sarebbe l'ex consigliere gianluigi verrone che non potrebbe essere così ripescato ricapitolando la probabile giunta potrebbe quindi essere così composta vice sindaco cianciola per ci siamo per agropoli lampasona del pd darienzo del pd apicella per mutali passi carpinelli di insieme o di biasi per il psi e di conseguenza presidente del consiglio comunale o franco di biasi del psi o pierino marciano del pd accusati l'affermazione del pd